Stiamo rivedendo il miglior Travaglia? Sì, diciamo che da ieri ho giocato il primo turno, un primo turno difficile contro Andrea Pellegrino, ci conosciamo bene quindi non è mai semplice giocare. Ho giocato un buon tennis, non il mio miglior tennis, però ho acquistato fiducia e oggi sono entrato in campo ed ero molto più solido. Al di là che il mio avversario si è ritirato e gli auguro una pronta guarigione, e ho fatto degli ottimi game sia in servizio che in risposta e sicuramente sono stato molto più solido di ieri e ho acquistato fiducia per il prossimo turno. Possiamo dire che è uno a questo punto dei grandi favoriti di questo torneo? Non me lo posso dire da solo, però dai speriamo e sicuramente sto cercando di ritrovare il mio miglior tennis che ho espresso a fine dell'anno scorso a US Open e all'inizio di quest'anno in Australia non è mai semplice avere una continuità in questo sport, anche perché ogni settimana c'è una rivincita quindi tutti i giocatori sono agguerriti e cerco ogni giorno di dare il massimo.